Buonasera, vi diamo il benvenuto a questo mai tradizionale concerto per te e donna. Ringraziamo il coro come armonie e l'orchestra da Artu Ingenius per il concerto che ci proporrà. A nome della Banca Nazionale del Lavoro, il gruppo BF Barivà, ringrazio tutti voi della partecipazione, ma soprattutto i due gruppi musicali, per il sostegno che ogni anno danno attento. Innanzitutto ringraziamo il Presidente del Coro Nuove Armonie e il mio collega che ogni anno propone questa iniziativa. La fondazione Teleton ha fatto una scelta unica nel suo genere, cioè quella di finanziare la ricerca su malattie genetiche rare e quindi non prioritarie per gli investimenti pubblici e privati. E' però una scelta, una boccata d'aria che Teleton dà a favore di queste famiglie che nella loro casa hanno questo tipo di malattie. Pido è ormai da 25 anni, quest'anno, 25esimo anno, che la Banca Nazionale del Lavoro fa la partnership con la fondazione Teleton in questa iniziativa. E naturalmente tutte iniziative di questo genere, anche piccole, piccole soffezioni, aiutano in questa missione, se la vogliamo così chiamare. Io ho visto che nella cantina di presentazione di Teleton si dà alcuni numeri delle varie iniziative che sono state fatte.